Oggi 27 marzo è giunto al servizio di emergenza territoriale 118 un nuovo mezzo di emergenza, un dono importante e fondamentale grazie alla Ferrari Auto S.P.A. di Maranello che ci ha appunto dotato un mezzo di emergenza a tutti gli effetti, un mezzo che entra in particolar modo all'interno della flotta dei mesi 118 perché sarà effettivamente un mezzo speciale, un mezzo dedicato all'emergenza attualmente in corso come tutti sappiamo per l'emergenza Covid-19, questo mezzo sarà dedicato per l'emergenza in quanto avrà anche una barella di biocontenimento, quindi per l'assistenza diretta alle persone purtroppo colpite da Covid-19. Entrerà in funzione una volta superati i collaudi da parte dell'azienda, verrà attrezzata con la dotazione standard di tutti i mezzi e verosimente in giornata entrerà immediatamente operativo su una postazione H24 sulla città di Modena. Fa parte appunto della flotta di tutti i mezzi di soccorso, quindi ambulanze automediche, avrà la caratteristica speciale della barella di biocontenimento, quindi la possibilità di poter mettere all'interno un paziente da Covid positivo 2019 e poter essere assistito praticamente all'esterno da parte degli stessi operatori e quindi lavorare in ulteriore massima sicurezza. Bene, a questo punto mi sento di ringraziare veramente tutte le persone che hanno dimostrato tale solidarietà per tutti gli omaggi che ci fanno continuamente al 118, assistiamo a della gente che ci ferma anche in automedica o in ambulanza dandoci magari quello che ha un dolce, ci offrono qualcosa, è proprio un senso di appartenenza a questa comunità. Io sono molto fiducioso, molto fiducioso perché stiamo mettendo in campo le migliori risorse e andrà tutto bene, andrà tutto bene perché ne usciremo ancora più forti da questa storia.